ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ci facciamo un bellissimo unboxing di una cosa che è uscita mesi fa che purtroppo non sono riuscita a reperire non sono riuscita a prendere perché è andata sold out praticamente subito però due giorni fa girovagando un po su tiktok e poi successivamente su amazon l'ho trovata e mi si sono illuminati gli occhi questo qui il pacchettino pacchettone in realtà già diciamo gli ho tolto i sigilli ma non ho ancora visto all'interno come è fatta diciamo la cosa che ho preso mi faccio vedere che bello allora una scatola come potete leggere forse al contrario si legge da qua cosa ho preso vedete mattel e ho preso la mostrai fatta per mercoledì adams preso tramite amazon perché sul sito della mattel purtroppo è sold out sold out da appunto quando è stata lanciata sono uscite tre bambole di questa collezione ovvero quella che ho preso io un'altra e un'altra ancora tre versioni insomma cioè due versioni di mercoledì più l'amica che non mi ricordo come si chiama nel film però vabbè adesso vi faccio vedere la versione che ho preso quella che è più bella secondo me io sono troppo felice perché se la comprate vi mandano appunto la scatola della mattel quindi come se l'aveste presa nel sito della mattel troppo io so l'unica cosa che so è che la mattel quando ordinate dei prodotti ci mette un'infinità di tempo a spedirli questa cosa non mi piace adesso la vado a prendere se riesco a tirarla fuori ragazzi voi dovete capire che io conservo anche le scatole perché comunque per i collezionisti si deve conservare per la prima volta insieme a voi raga cioè il retro sto guardando eccola qua scusate innanzitutto il riflesso ma questa qui appunto io ve la faccio vedere anche nel retro questa qui appunto è la versione ballo ballo famoso che appunto quando è uscito il film andava di moda su tiktok insomma e appunto ragazzi ho preso questa versione perché è la più bella a mio avviso se e dico se riuscirò più avanti ovviamente se si troveranno eccetera a recuperarle tutte le altre due recuperarle ok così mi finisco anche la collezione se no mi tengo questa guardate ragazzi allora io non vi faccio la recensione cioè nel senso perché non la apro in quanto lei rimarrà fissa nel box non so se magari un giorno mi prendere il matto e la tolgo dal box però per ora rimarrà dentro sono troppo felice di averla tra le mie mani scusate ripeto riflesso ma la scatola essendo trasparente fa riflesso appunto e io vi faccio solo vedere la scatola così com'è qui c'è scritto mostrerai per wednesday ed è appunto raven wednesday ovvero il ballo quello lì insomma famosissimo c'è niente di che da dire dato che comunque ci sono parecchi canali che fanno le recensioni dettagliate proprio della bambola a me non va cioè nel senso che non mi va proprio di aprirla probabilmente forse magari in futuro se mi va l'aprirò perché tipo di alcune bambole ogni tanto cioè dico che le tengo in box e poi dopo invece le apro perché vorrei toccarle vorrei vabbè lei comunque arriva con lo stand e lo so cioè lo stand praticamente è qui dietro e niente ragazzi dovrebbe arrivare anche con il certificato allora vediamo una cosa se riesco soltanto ad aprirvela così vi faccio vedere altrimenti non si capisce ad aprirvela cioè soltanto toglierla dal box e poi rimetterla vediamo se si può fare perché ho paura tantissimo di rovinare la scatola allora ragazzi io direi che la lascio così perché ho appena visto che qui vedete non so se si nota ci sono i sigilli con lo scotch e io ho paura che andando con le forbici possa graffiare la scatola e non mi va per cui fidatevi di me qui dietro ci sta sia lo stand che il certificato di autenticità comunque se volete vedere proprio gli unboxing eccetera su tiktok ne girano parecchi probabilmente anche su youtube l'ho visto ma sicuramente c'è per cui ragazzi questa è quella che ho preso che desideravo tantissimo l'avevo vista anche usata su vintage però vintage su queste cose non mi fido c'è sempre paura di intaccare incappare in fake oppure bambole rovinate eccetera comunque per questo video io ho finito ditemi sotto nei commenti se vi va ovviamente se qualcuno di voi ha le ha reperite se riuscite magari a prenderla al day one oppure le ha prese su amazon perché comunque io so ho scoperto che su amazon giravano da un po' amazon italia però cioè mi è stata spedita da amazon italia però lei arriva direttamente dal belgio quindi a saperlo la prendevo prima non lo sapevo e vabbè l'importante è che lo pensa vabbè ragazzi per questo video è tutto noi ci vediamo alla prossima ciao 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 tinky winky ciao ciao